Aumentano i reati e in particolare i femminicidi, crescono anche gli attacchi hacker. Sono i contenuti principali del tradizionale report di Ferragosto, stilato al termine della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, tenutosi questa mattina al Viminale. Un'occasione per fare il punto su cosa è successo e sugli interventi delle forze dell'Ordine negli ultimi 12 mesi. L'incremento dei reati commessi dal 1 agosto del 2021 allo scorso, 31 luglio, è evidente, oltre 2 milioni e 100 mila, a differenza del 1.800 mila registrato nei 12 mesi precedenti, ma la crescita non porta la somma totale dei delitti ai livelli pre-pandemia. In crescita però ci sono gli omicidi delle donne. Nella quasi totalità dei casi commessi in ambito familiare o affettivo, negli ultimi 12 mesi sono stati più di 125 una donna uccisa ogni tre giorni. Da registrare c'è anche il balzo degli attacchi hacker, cresciuti esponenzialmente con lo scoppio del conflitto ucraino. Erano stati poco meno di 5 mila lo scorso anno, fino a due settimane fa ne sono stati rilevati più di 8.800. L'invasione russa ha avuto anche un'altra evidente conseguenza, la disperata fuga dalla guerra di decine di migliaia di persone. Le richieste di asilo di cittadini ucraini nel nostro paese sono state più di 2.600, quasi il 400% in più rispetto al periodo precedente, quasi 150.000 le richieste di protezione temporanea. Restando sul tema accoglienza, al Viminale è stata poi affrontata la questione degli sbarchi, che nelle ultime settimane sono ripresi a livelli mai conosciuti negli ultimi due anni. Dal 1 gennaio di quest'anno fino allo scorso, 11 agosto, i migranti arrivati sulle nostre coste sono stati 45.664, il 40% in più dei 12 mesi passati. La maggior parte di loro sono egiziani e tunisiri, ma molto alta è anche la percentuale di afghani che tentano di fuggire da un paese tornato nelle mani dei talebani. I migranti accolti nel nostro paese sono quindi 95.000 ripartiti in questo modo su tutto il territorio nazionale, tra spot, centri di accoglienza, sai, i sistemi di accoglienza e integrazione.